Sono Giacomo Grassi e sono il titolare della mia azienda. Abbiamo ritrovato scritti che i miei antenati erano su quel piccolo fazzoletto di terra dal 1563. Il Vignaiolo, come dico sempre, per me quest'anno, la 2023, è stata la 45esima vendemmia, perché, essendo il primogenito maschio di una famiglia di mezzatri, la Playstation non era contemplata, per cui ho iniziato a sette anni e mezzo a lavorare in vigneto prima con il nonno e anche con il babbo. Quindi il Vignaiolo io ce l'ho nel sangue, perché ho fatto anche 4 anni di master in viticoltura a Bordeaux, per cui faccio il consulente agronomo viticolo. Il nostro territorio è famoso in tutto il mondo per il gallo, ma il gallo è appiccicato sulla bottiglia di vino, per cui quando si parla di ghiantilassimo, il 99,9% delle persone pensa a un vino russo, per cui è anche un modo di fare marketing territoriale, è un vettore, un veicolo, è un taxi di territorio che può portare le nostre aziende tutte in giro per tutto il mondo.